Gentili telespettatori, buona giornata. Avete sentito le parole veramente discutibili del nuovo segretario Letta, tra i ussoli, voto ai sedicenni e borraccia con bella ciao in vista, un po' penosa come prima uscita pubblica come segretario del PD, però magari al suo elettorato piace uno che dice queste sciocchezze. Il voto ai sedicenni, 16, 17, due anni in più, i sedicenni magari votano per il PD, recuperiamo un bel po' di voti, ma rischia di rivelarsi un primo clamoroso autogol, la proposta del neosegretario del PD di consegnare la tessera elettorale anche a chi non è ancora maggiorenne. Pare proprio infatti che i ragazzi non abbiano tutta questa voglia di buttarsi a sinistra, anzi, secondo un sondaggio SVG fatto in occasione delle ultime elezioni europee, bene il 38% dei giovanissimi sosteneva la Lega, con il PD al 23%, distanziato di 15 punti percentuali. Inoltre un sondaggio Ipsos rivelava che solo un elettore su quattro nella fascia tra i 18 e i 34 anni era favorevole ad abbassare l'età per ottenere il diritto di voto. Quindi un'idea inutile e controproducente, quindi in questo il partito di Letta non sembra diverso da quello di Zingaretti. Un'idea che non... perché fare votare i sedicenni? Che serve aumentare la platea dei votanti? Intanto i voti andrebbero a Matteo Salvini, caroletta. Adesso che è venuta fuori questa notizia che magari non sapevi, magari hai cambiato anche idea, non ne parlerai mai più adesso perché faresti aumentare i voti numerici proprio della Lega. Bravo Letta, number one, un genio della lampada. Veramente sono assolutamente commosso dal tuo genio assoluto. Intanto Maria Rosaria Rossi, ve la ricordate, quella che veniva definita la badante di Berlusconi, ha capito chi l'ha cacciata da Forza Italia. Beh, una valanga che a molti magari può non interessare. Il giornale diretto da Marco Travaglio parla di questo, il fatto quotidiano. Si tuffa a pesce nella rottura tra Silvio Berlusconi e la sua ex segretaria personale, senatrice azzurra che ha rotto clamorosamente col partito alla vigilia del voto di fiducia al governo Conte. La Rossi passò ai responsabili, i costruttori, venendo espulsa da Forza Italia a tempo di record. Ora, rimasta senza orizzonte politica, si è avvicinata Giovanni Totti, suo ex compagno di partito e oggi leader di Cambiamo. Ma anche Cambiamo con l'1,3% dove vuoi che vada, a meno che Cambiamo non si fonda con qualche altro partito. Insomma, la badante è in cerca di partito. È andata via da Forza Italia, dove probabilmente non aveva un futuro, ed è finita in un luogo, in un non luogo dove un futuro non ce l'ha sicuramente. E dice così, i danni mi chiamavano badante, ma vista l'eccezione negativa data dai giornalisti, a offendersi dovrebbe essere la categoria stessa, dice. E poi proprio Travaglio sdogana l'espressione, badante del Cavaliere, a usarla è proprio lui. Al fatto, ribatte alle accuse mosse dagli azzurri, se sono diventata contiana, è quello che hanno sostenuto coloro che non vedevano l'ora di cacciarmi, screditarmi e farmi passare da traditrice. Gli stessi che pur di fare la pelle a Conte avrebbero messo il paese in pericolo andando a votare con la terza ondata in corso. Il paese in pericolo per andare a votare, mamma mia. E così, dopo una scalata continua nel partito che è iniziata nel 1994, la mia utilità è venuta meno, così come le mie cariche. Giusto per un principio di rinnovamento, dice lei, ma poi conferma le indiscrezioni sul motivo del suo ossidoramento. Dicono sia stata opera di Marina Berlusconi, suggerisce l'intervistatore. Risulta anche a me, dice. L'accusa, pare, è che non si sia accorta dei problemi cardiaci dell'ex premier. Ho svolto tanti incarichi, dice al suo fianco, ma non quello di cardiologo, non sono un medico, replica lei, con una punta di sarcasmo. Di medici, il presidente ne ha abbastanza e lo seguono. 24 ore al giorno. E poi dice, da quando è scoppiata la pandemia? Ho sempre espresso al presidente la mia posizione, quella di un'opposizione responsabile. Restano poi i rapporti personali con Berlusconi, che lei dice è impossibile litigare con lui. Alla fine ho solo anticipato i tempi. E restano a sorpresa anche quelli tra Francesca Pasquale, ex compagna del Cavaliere, e Silvio. Dice, certi sentimenti nascono per non finire mai. Non credo torneranno insieme, ma non smetteranno mai di cercarsi e di volersi bene. Bah, insomma, io quando vedo le giovani donne con molti miliardari anziani, tutto questo volersi bene forse magari è a senso unico. Voi che dite? Insomma, tutte queste fidanzate di Berlusconi, belle, giovani, lui con 80 anni, uno degli uomini più ricchi d'Italia, mi sembra un rischio visto centinaia, migliaia di volte, no? Insomma, forse non è neanche il caso di parlare di che non smetteranno mai di cercarsi e di volersi bene. Bah, insomma, stendiamo un velo pietoso. Questo è il potere, è il potere del denaro, il potere del denaro crea queste cose artefatte. Eh sì, non so, voi con tanti soldi cosa pensereste di una ragazza giovane che si avvicina perché avete montagne di soldi, ville lussuosissime. Eh beh, insomma, bisognerebbe essere anche un po' realisti e dire l'ho capito però. Ma Berlusconi lo sa perfettamente, è ovvio che lo sappia, è ovvio. Però a lui va bene così. Dice meglio così che in un altro modo, no? Ecco. Vabbè, lasciamo perdere discorsi che ci addentriamo, che non possiamo neanche parlare liberamente, perché non si può parlare liberamente, voi lo sapete. Questa è la realtà. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale. L'iscrizione è gratuita, siamo anche su un altro canale, Teleitalia Seconda Rete. I video che trovate su Teleitalia Seconda Rete e Teleitalia poi sono caricati dopo qualche ora su Facebook, in modo che lì, se vi iscrivete, li potete condividere sul vostro profilo. Grazie a tutti quanti e buon proseguimento di giornata. Arrivederci a tutti.